Parliamo di economia, è stata la volta del bilancio per l'anno 2017 di Conf Cooperative, la Confederazione delle Cooperative, le Coop Bianche, diciamo così, si presentano in crescita e con un aumento di fatturato cresce anche l'occupazione. Il tema della falsa cooperazione mina pesantemente la credibilità del nostro sistema, non ci appartiene, vogliamo che da questo punto di vista sia fortemente combattuta, lo vogliamo attraverso la legge nazionale sulla falsa cooperazione promossa da Alleanza, lo vogliamo attraverso un rafforzamento degli assorbatori provinciali sulla logistica e il facchinaggio che debbano diventare davvero uno strumento di denuncia, visto che sono presenti tutti i soggetti che sono tenuti a vigilare a partire dall'ispettorato del lavoro. Lo vogliamo attraverso soprattutto maggiore responsabilizzazione della committenza che deve preoccuparsi quando terziarizza di verificare a chi terziarizza il lavoro, se sono cooperative sane, se applicano i contratti, se attribuiscono correttamente i lavoratori che sono coinvolti. L'andamento del sistema Conf Cooperative Emilia Romagna nel 2017 è un andamento a nostro giudizio estremamente positivo, abbiamo un aumento dell'occupazione, cosa che ci preme di più, del 4,2%, un aumento del fatturato del 3% e soprattutto quello che vogliamo sottolineare è l'andamento negli anni della crisi, dal 2007 al 2017 abbiamo registrato un aumento dell'occupazione del 41%. Grazie a tutti!